Gettile degli spettatori, buongiorno e benvenuti al Gallucci di Solofra per assistere all'incontro di calcio valevole per l'ottava giornata del campionato di promozione Girone C tra il Solofra di mister Ciccio Messina e il Cervinara di mister Alessandro Cagnale. Partiti in questo momento è il Cervinara che ha il possesso palla con Pagnozzi, Pagnozzi che serve Pepe, Cioffi e Angelo Antonio schierato oggi in sostituzione di Russo infortunato e Carbone squalificato quindi ha la grossa possibilità di riprendersi il posto da titolare che ha avuto nelle prime gare di campionato. Ancora Cervinara, Russo Lillo, Russo Lillo nell'insolito ruolo di destro, Pignalosa, proprio Pignalosa, palla al piede, entra in aria, tenta il tiro ma la palla arriva sui piedi di Saginario che dà la lunga distanza. Due giocatori che sono di grossa stazza. Nel frattempo tende il tiro dalla distanza il numero 6 Olimpo. Come sempre gli ultra arrivano in ritardo ma non per scelta loro il più delle volte perché o bloccati dalle forze dell'ordine quindi vengono perquisiti per le solite cose anche se siamo nei dilettanti. Però alla fine arrivano ora diventa cospicuo il numero di tifosi del Cervinara a seguito nel frattempo il Cervinara si affaccia timidamente nell'area del Solofra. Marco alla battuta, cross in aria, palo 4-3 e 4 di saltare. De Sio cerca di saltare 5 minuti della seconda passione del gioco. Ancora Cervinara esce questa volta di Benedetti. Ancora se ne va De Sio, Durso, Dacirno. Cervinara che tenta subito la sortita, tiro dalla distanza di Pagnozzi. E' un risultato che entra in aria, calcio di rigore per Cervinara, Pignalosa parte Pignalosa, calciagol. Cervinara in vantaggio su calcio di rigore al trentanovesimo della seconda fazione di gioco. Sblocca Pignalosa per il Cervinara. Se ne va il Cervinara sulla destra con Russo Lillo. Russo Lillo entra in aria, Russo Lillo in aria, in aria. Cerca il cross per Mortelliti. Finisce in questo momento. Il Cervinara si impone al Gallucci di Solofra contro il Solofra per 1-0 grazie al gol realizzato da Pignalosa sul calcio di rigore. Vola in vetta alla classifica con 22 punti dal Gallucci e tutto. Franco Pitaniello, User TV Sport Channel, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima. Grazie e arrivederci.